Come vediamo in questo caso il pianeta si è spostato da est verso ovest nel modo diretto. Anche in questa immagine che abbiamo visto prima si spostava in modo diretto verso ovest. Tuttavia c'erano altre immagini dove il pianeta si spostava verso est, questa e anche quest'altra immagine qua. Come pure l'immagine del libro di testo di Parodio Stili Mocchionori, dove si dice che i pianeti si muovono verso est relativamente alle stelle fisse, ma mostrano in certi periodi dell'anno un modo retrogrado verso ovest. Qui in realtà è disegnato il contrario, cioè il pianeta dovrebbe muoversi verso est, cioè verso ovest, e poi un modo retrogrado verso est per poi ritornare verso ovest. In realtà credo che non ci sia contraddizione tra queste immagini, per esempio tra questa e quest'altra. Probabilmente è tutta una questione del punto di vista, cioè se noi osserviamo dall'emisfero boreale o dall'emisfero australe.